la rete wifi in casa è una gran cosa ma talvolta in alcune stanze la ricezione può risultare più debole o addirittura perdersi in questo caso c'è un'unica soluzione la rete mesh e con fritz la rete mesh è facile ed efficace ma che cos'è la rete wifi mesh e a che cosa serve questa tecnologia ha un ruolo fondamentale oggi nelle reti domestiche immaginiamo la rete mesh come una maxirete in cui le varie maglie sono distribuite per casa in modo da creare una copertura uniforme che ti permette di godere della massima velocità di navigazione fino all'angolino più remoto di ogni stanza scopriamo come la rete mesh permette a più prodotti fritz collocati in punti strategici della casa per esempio fritz repeater o i fritz powerline di funzionare come nodi di unica rete wifi facilmente gestibile con un solo nome e una sola password attraverso il fritz box principale il fritz box funge da centrale e trasferisce in automatico le impostazioni della rete mesh a tutti gli altri dispositivi fritz commessi la tecnologia mesh di fritz renderizza automaticamente i vari dispositivi al punto di accesso wifi con la migliore ricezione e sulla banda di frequenza più potente in questo modo potrai navigare in internet gustarti i tuoi video in streaming o giocare in ogni stanza della casa senza interruzioni né rallentamenti la gestione della rete fritz mesh è semplicissima puoi sempre tenere sotto controllo con un paio di click tutti i dispositivi fritz collegati e avviare gli aggiornamenti a livello centrale dal fritz box ma puoi anche attivare molte altre funzioni come creare un fritz hotspot per gli ospiti o impostare un timer per attivare o disattivare automaticamente la rete wifi e altro ancora con la tecnologia mesh disponibile sui dispositivi fritz fai arrivare in un batter d'occhio la rete wifi fino all'angolo più remoto della casa senza alcuna perdita di segnale